Credo che è un video istituzionale detto che è da antes. Grazie a tutti. 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 No. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e 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 a tutti. gli dati di Adalimumab. Esti sono i dati 12% o 24% per Adalimumab. Il Infliximab Study è un outlier. Perché nel Targan Study non abbiamo visto queste barra di efficacia. Però cerca di 20% per Adalimumab. E se vai a guardare Forvedolismab è dentro di 8% e di 20%. E' molto simile. E anche se vai a guardare un anno di remissione facendo lo stesso exercicio. Lo che vai a guardare è che per la remissione clinica, per l'Infliximab è praticamente 28%. Per Adalimumab è 40%. Per la Forvedolismab è 50%. E la differenza del placebo è simile. 15%, 28%, 24%. Quindi, quando vai a guardare questi dati, gli dati sono molto sovrapponibili. Ma dovete ricordare che queste popolazioni di pacienti sono molto differenti. Le popolazioni di pacienti tratati nel Vedolismab Study sono molto refractari. E anche per la steroid-free remissione. 25% e con un delta di 14% per l'Infliximab, 12% per il Vedolismab. Quindi, le dati... Viene, smell, similar. Viene, huele... No, come si dice, huele, smell, smell, huele, huele. Ok. Questo è facendolo scientificamente. Facendolo scientificamente si può fare una meta-analisi. Donde potete vedere e ponere tutti i casi insieme. Lo che ho detto, a l'excepzione dell'Infliximab, che è un outlier. Potete vedere che Adalimumab, Sertolizumab, perché Natalizumab e anche Vedolismab hanno il mismo profilo di efficacia clinica per la induzione della remission e per la prevenzione del relapsi clinico e anche per la malattia fistulizante. Per la malattia fistulizante è un discorso separato. Perché questo è un solo dato pechino. Per Vedolismab sapete che nel trial ci sono 50-53 pacienti in cui si ha dimostrato una mejora della cicatrizazione della fistula però non ha studi dedicato. Lo studi dedicato sta ora. Tampoco per l'Adalimumab non ha studi dedicato. Quindi si può trattare però per l'Infliximab abbiamo studi dedicato. Lo che è molto particolare per Vedolismab è il profilo di sicurezza. Il profilo di sicurezza è molto speciale e sapete che quando si mira questo però vorrei toccare questo dopo non ha differenza con il placebo. È uno dei anticorpi monoclonali più sicuri che abbiamo. Ora, un altro aspecto molto importante per posizionare l'Anti-TNF e l'Anti-Integrina è la durata della malattia. Perché? L'Anti-TNF si hanno dimostrato più efficace particolarmente con i pacienti di corta durazione di malattia. L'Anti-Integrina va a funzionare ugualmente per tutte le durature di malattia. Quindi, per questo motivo, quando abbiamo scritto questo papel con Julián Panè lo che abbiamo pensato è che in generale per il Crohn's disease come a vedere solamente per il Crohn's disease l'Anti-TNF sono ugualmente efficaci per l'Anti-Integrina per il mantenimento della malattia luminal. Per l'induzione l'Integrina può essere un pochino più lungo. Però, in generale, va a funzionare nel mantenimento l'Anti-Integrina sono più efficaci per una malattia per una malattia di lunga durata. E per la malattia fistulizzante, come ho detto, l'Infliximab è l'unico che tiene lo studio dedicato per la malattia fistulizzante. Vedolizumab va a completare lo studio in un anno o qualcosa di così. Però, claramente, come ha fatto per Adalimumab, anche per Vedolizumab se il paziente tiene una fistula e la malattia può essere trattata con Vedolizumab e probabilmente la fistula se va a cerrar. Questo è di mettere questi dati in un algoritmo. Hoy, la posizione dell'Anti-TNF e del Vedolizumab è esattamente la mia. In prima linea, dopo il falimento delle terapie convenzionali, e lo che si può fare è che se il paciente è un primary non-responder, lo che passa è che si fa uno swap, che significa che possiamo cambiare il meccanismo di azione. Però, se il paciente responde e poi comincia a avere una seconda di l'ospensione è possibile to cycle, che significa cambiare nella mia. Classe, questo è al momento solo con l'Anti-TNF, però pensate se in 3 anni con l'Anti-Lizumab o anche con l'Anti-MAT-CAM, si può ciclo nella mia. Classe o swap che significa cambiare il meccanismo di azione. e un'altra di l'Anti-Lizumab la paciente vuole parare della terapia biologica, lo che abbiamo fatto con questa paciente è una reinvestigazione di risonanza e di colonoscopia completo healing, questa è una paciente che ha risposto molto bene e anche la risonanza. quindi una delle domande è se possiamo parare o non con l'Edo-Lizumab e lo sai che è molto provocativo perché non abbiamo queste risposte con l'Anti-TNF e con l'anno di azione però qualcosa che è molto importante di conoscere è che il profilo di sicurezza dell'Edo-Lizumab è molto è molto meglio comparare con l'Anti-TNF e ora abbiamo dei dati che voglio mostrare lo che passa dopo un anno di observazione con gli studi di long term efficacia quindi vamos a vedere questi dati che hanno stato pubblicati creo hace tre mesi è molto recenti questa è una overview di lo che passa di tutti gli pacienti che hanno completato il studio di mantenimento per la enfermedad di Crohn e poi hanno potuto continuare per la long term extension con vedulizumab solo recordare che in questo caso per il mantenimento è cada 4 settimane è distinto a la classica 8 settimane che facciamo in la pratica clinica e abbiamo due tipi di análisi un che si dice non risponde che significa tutti i pacienti che hanno le dati disponibili o un analisi un po' più più forte più dura che si chiama non risponde imputazione praticamente tutti gli pacienti che non abbiamo i dati o che hanno perduto di follow up sono categorizzati come negativi non risponde quindi i dati sono un po' più negativi verso la eficacia clinica è solo per ricordare che la scheda di induzione è 0 2 6 cada 8 semanas e dopo 4 semanas per la long term extension è la prima era so these are I need to speak in English now because this is a little bit more difficult so this is patients receiving every four weeks from every four weeks to every four weeks or basically every eight weeks intercambiaron y continuaron a cada cuatro semanas nuevamente como vemos acá siempre hay dos tipos de análisis el no respondedor o según la observación y para la respuesta clínica y para la inicia clínica los datos son muy buenos porque demuestran que a largo plazo la eficacia de vedolizumab es muy buena esto es algo único del mecanismo de acción del vedolizumab cuando funciona el mantenimiento de la eficacia clínica es muy constante esta es una cosa muy especial lo hemos visto todavía con natalizumab los anti integrin tienen esta capacidad y también vedolizumab es la demostración cuando hacemos la diferencia de los pacientes que son aquí en verde anti TNF failure o en rojo anti TNF naive lo que podéis ver es que la eficacia es sobreponible no tenemos una diferencia particular la diferencia particular está prácticamente durante la inducción durante la inducción si un paciente es TNF naive es mejor de responder con vedolizma pero en el mantenimiento no es mucha diferencia o la diferencia es muy pequeña si ha estado tratado con anti TNF o not en la long term ok now let's look at these these are again multiple different analyses looking at all the patients between the four weeks patients that were all the completers in the maintenance dosing and that could continue in the long term and you see that overall both clinical response and clinical remission regarding whether the patients were every four weeks or every eight weeks the patients did respond equally well so no tenemos ninguna diferencia si los pacientes han continuado empezando de una scédula de cada ocho semana o de cada cuatro semanas esto es muy importante también now una de las cosas más frecuentes es si podemos retratar los pacientes después que han avuto un tratamento con vedolizumab y por alguna razón han necesitado interrumpirlo este es un ejemplo típico estos son pacientes que han recibido vedolizumab a la inducción y después han avuto una respuesta pero si se recuerda se puede rirandomizar al placebo estos pacientes han recibido vedolizumab después han recibido placebo y han avuto necesidad de otra medicación porque la enfermedad se ha diventado activa lo que podéis hacer es después being in clinical response and then getting placebo these patients cuando van a recibir vedolizumab otra vez van a responder igualmente bien esto ocurre también en los tnf naif un poquito mejor en este caso que en los pacientes que son tnf failure pero overall todos los pacientes van a responder otra vez vedolizumab se ha interrumpido y después van a recibirlo so if there is a drug holiday and this is the same that occurs in pacients that on a different note if they've been completed the Gemini 2 and then other other have been retratated you see that again all the patients which the therapy has been interrupted once they are retreated with vedolizumab they do equally well so they are very comfortable because they tell us if we are the treatment whatever is the reason for example in the practice clinic a patient embarazada a three months we have the treatment and then we want to reiniciar the patient will respond to the patient that is very important a patient that is traveling and not receive the treatment but once the patient will respond to e questo è un'altra forma di analizzare i stessi dati, ma quasi guardando solo gli pacienti che ricevono Infliximab in la induczione rispondono, poi non hanno tolto perché, per esempio, la droga non funziona e poi avevano la possibilità di cortare i intervali. E vediamo che, nuovamente, ha una eccellente risposta, e questo è accorre un po' meglio per gli pacienti naivati, però in ambas poblazioni di pacienti funzionano abbastanza bene. Quindi questi dati vanno nella stessa direzione, se accorremmo il intervallo, possiamo capire più pacienti in rispondono e in rispondono. La ultima diapositiva, e questa è solo la vita reale, per il mucosa algino, dell'infermità di Crohn, il primo pizzo dei dati dell'infermità di Crohn, la LWGW, il studio di Takeda, per il mucosa algino. Però questi sono dati di real life, dell'infermità di Crohn, di un centro con 29 pacienti con l'infermità di Crohn, e potete vedere che la maggiorità dei pacienti va a avere un healing completo o un healing parziale. Quindi abbiamo, anche in real life, abbiamo dati che suggeriscono, che muestron che il vedulismo ha una efficacia nella cicatrizione della mucosa intestinale in l'infermità di Crohn. Il profilo di sicurezza. Quindi quando parliamo di sicurezza, a me piace molto, perché praticamente quando vedete questi numeri, è ugualmente lo stesso del placebo, anche per l'infermità di Crohn, la nasofaringità di Crohn, questo è del TAR registrativo, però anche per l'infermità di sicurezza, praticamente c'è solo un po' di nasofaringità, e niente più. Questo è il farmaco più sicuro che abbiamo oggi per l'infermità infiammatoria digestiva. Questo è per l'infermità di Crohn. Ora possiamo cambiare, cambiare, verso ulcerative colitis. Ok, questa è Angela. Questa è un paciente con una colitis estensiva, una paciente tipica. Un paciente con molta scarica di diarrea, mild fever, hospitalized, il paciente riceve lo steroido in vena e in principio, al final, toma cortisone per la bocca e anche mesalazina. questo paciente comincia con una steroidodependenza, è molto frequente, e lo che passa è che questo paciente è un típico esempio di malpractice. credo che per 10 anni, questo paciente ha subito 10 mg di steroidi con ups and downs, alti e bassi, subi e bassi di steroidi. viene al nostro centro nel 2009, e la paciente tiene un po' di osteoporosi, chiaramente, dopo tutto questo cortisone, tiene una enfermedad biologicamente activa, e la prima pregunta, dopo aver eseguito la colonoscopia, che chiaramente è molto activa, la pregunta è, che faremo? questo paciente, in quel tempo, abbiamo dato infliximab, e la paciente risponde, come potete vedere, è una paciente che risponde molto bene, dopo tre mesi, con una riduzione del numero di evacuazioni, con la riduzione della presenza di sangria, e con un medio score di 1. e la paciente completa tutto, per meno di un anno, però, dopo un anno e medio, lo che passa è che questa paciente, oltre a volte, comienza a avere una reacutizzazione della malattia, oltre a volte, tiene blood tools, tiene la calprotectina alta, la proteina si reactiva, si elevata, e lo che abbiamo fatto, è di parare il infliximab, questa paciente ha iniziato con vedolizumab, questa è la attività endoscopica, e la paciente tiene di sicuro una attività molto alta, in principio, però potete vedere che questa paciente risponde molto bene, questa è anche una paciente dei clinical trials, questi sono storici dei pacienti che ho riportato qui, sono dei primi pacienti che abbiamo trattato in nostro centro, con una buona risposta, e vedo che con una buona mucosa, la paciente, dopo un anno, comienza a avere anche un po' di attività di malattia, con aumento della proteina si reactiva di calprotectina, e lo che abbiamo fatto in questa paciente, con queste opzioni, è chiaramente di cortare i intervalli, questo è quello che abbiamo fatto con il infliximab, lo faremo anche con il vedolizumab, e una cosa che è molto buona, è quello che possiamo aspettare del vedolizumab, quando abbiamo cortato i intervalli, questi sono tutti i dati che suggeri che quando si sono cortate i intervalli, si possono raggiungere la risposta clinica nei pacienti con la malattia di Crohn, con colitis ulcerosa, qui lo vedete molto meglio, vedete che i pacienti devono diminuire in maniera significativa il partial Mayo Score, quindi è una buona abitud di cortare i intervalli a cada 4 settimane, e questo è anche per la malattia di Crohn, lo vedete molto bene, che le curve vanno verso il basso. Questo paciente continua con questa optimizzazione, e ancora è in remissione clinica per un lungo tempo. Una volta, possiamo vedere, questa è la mia domanda, qual è il farmaco migliore di utilizzare dentro dei anti-TNF dentro del vedolizumab per la induzione. Questo è una meta-analisi che abbiamo pubblicato hace 3 anni, in Annals of Internal Medicine, e come potete vedere, tutti i anti-TNF sono comparabili, in Fliximab e vedolizumab sono un pochino migliori, e questo può essere dovuto dal fatto che sono in vena. Quindi può essere che sono un pochino più rapidi comparabili con le sub-Q drugs. Lo stesso è per il Mucosal Healing, in Fliximab un pochino più rapido, e poi vedolizumab, questo è solamente nel short term, ma non ha una significatività speciale, excepto di in Fliximab quando è comparato con Adalimumab, perché Adalimumab non è adosato molto bene con la coli dolcerosa. Questo è il problema. si può fare lo stesso esercizio anche per il mantenimento, e per il mantenimento lo che potete vedere è che i dati sono sovrapponibili, in questo caso perché il disegno di studio è diverso, la comparazione con il vedolizumab si può fare soltanto con il golimumab, e vedete che il vedolizumab ogni 4 settimane, ogni 8 settimane è meglio, è comparato con il golimumab. però tutti questi dati suggeriscono overall che anti-integrine e anti-TNF sono molto simili, sono uguali effettivi anche in ulcerative colitis. e lo stesso è, qui, se pensiamo cosa è meglio in TNF-naivare, in TNF-naivare, vedete che i deltasi sono molto simili, in TNF-naivare, anche per ulcerative colitis, però, ovviamente, l'efficacia è consistente in tutti i tnf-naivare, in tutti i tnf-naivare, e lo che è importante è che nel mantenimento, non importa se i tnf-naivare sono tnf-naivare, l'efficacia è mantenuta per il tempo. Quindi, questi dati sono molto assicurati che vedolizumab in ulcerative colitis è una druga che funziona molto bene in l'induzione e in la mantenimento in tnf-naivare e tnf-exposate e questo è la posizione. Quindi, la posizione è quasi la stessa con l'anti-TNF, ci sono due differenze. La firsta differenza è il profilo di tnf-naivare, perché l'anti-integrine è molto meglio, e la seconda è l'inpatient con il refractore che vedolizumab in questi pati non usare una sub-q anti-tnf non usare vedolizumab solo usare infliximab come rischio in severo ulcerative colitis e questo è il stesso algoritmo con il stesso meccanismo di action con il SWAP e il cycle e l'accusa in severo ulcerative colitis con infliximab ci sono che vedolizumab sono molto simili tipica di l'alpha 4 beta 7 non importa se il paciente è tnf-naivare o tnf-fagliare vedete che i corsi sono molto semplici e sono superimposti secondo l'analisi quindi ricordate ricordate che per noi questo è più importante perché è quello che vediamo un paciente che è bene rispondendo è quello che osserviamo ogni volta che il paciente veniva che sono che è molto molto importante di questo ma come 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 vediamo attraversi in la prattazione che mi vedete ogni settimana per quando un paciente rispondendo il paciente mantiene effici fino a 152 giorni di vediamo tre anni di sono molto robusto per The same is, again, this is for the patients according to the dose. No differences if they were coming from every eight weeks or every four weeks. Pretty much the doses are quite superimposable for response and remission. And also in relation to the retreatment, the drug holiday that we spoke. I can retreat without no risk. The risk of getting side effect or infusion reaction is very minimal. We should not be afraid. And actually once we retreat the patient, you see that the patients are re-responding. These are for patients that interrupt up to one year of therapy. So very, very long drug holiday for whatever reason. It happens that the patients, for instance, get a cancer or get a hip replacement or other things. Sometimes we interrupt the drug. It requires longer time. The patient says, well, we can retreat without any fear. We can retreat with confidence. And this is true also for the increased dosing. So we can increase the dose. And we can recapture a significant proportion of patients by shortening the intervals. We are very used to it. Because this is what we already do for anti-TNF. And we can do exactly the same with the confidence of the data that we see here. No matter if the patient has TNF failure or TNF naïve. And this is the final related to mucosal healing. Also in this case, this is real life data. You see that the majority of the patient, 74%, more than half will have a Mayo 0 and 20% will have a Mayo 1. So this means that it is very reassuring the fact that there is a profound effect on the mucosal healing. And these patients will stay well in the long term. So probably this is the reason for which, once the drug is working, maintains the efficacy of action because of the mucosal healing. Safety profile. Again, also for this, you can look at all the numbers here. But these are pretty much superimposable between VEDO and placebo. No major differences. And this is true not only for the Gemini 1, but also for the long-term safety results. So I think that overall, this is one of the very, very innovative molecules that we have in our field. I'm lucky because I got it very early. Now you will get used to it because it's my understanding that you got launched in your country very recently. But in one year, you will have the same experience that I've had with my patients in offering a very safe drug that has a very robust efficacy profile. And with this, I thank you for your attention. There was one slide with PML, but for me, this is just ridiculous. because it was requested by the Colombian Takeda, but this is ridiculous because PML is an X. There is no PML risk with vedolizumab. Thank you and very happy to take any questions. Thank you very much. Grazie, dottor Danese.